Recupero prima giornata Super 8 di fronte Real Mother Day e Rang Risultato ancora sullo 0-0 Tengono in avanti i Rang Mirabella, il tiro! Qua si beffava il portiere Palla in avanti, sbaglia lo stup, l'attaccante Qua ancora Mirabella sulla fascia, guadagna questo fallo laterale Palla rimessa in avanti Una serie di rimpalli Palla finisce il fallo laterale In avanti, tra le mani del portiere dei break No, delle Real Mother Day, scusate Che riparca Sbaglia il passaggio Si infila Damato, è un grandissimo gol Di Damato, che in velocità Si, si, lo so, lo so Vediamo qui il nostro collegamento Un grandissimo gol di Damato